Bentornati al consueto appuntamento con l'Economia e il diritto di Valsangone Network TV, lessico finanziario, la trasmissione che nasce dalla collaborazione tra Fondazione Pacchiotti ed Accademia di Educazione Finanziaria. Come ogni settimana sono con noi il Presidente dell'Accademia di Educazione Finanziaria, il Professor Beppe Ghisolfi, e il Direttore della medesima istituzione, l'Avvocato Alberto Rizzo. Un caro saluto Marco e una buona visione a tutti. Questa settimana ci concentreremo su due tematiche, una più specifica dal punto di vista economico e una più generale dal punto di vista giuridico. Partirei con il Professor Ghisolfi. Beppe, cosa ci dici a proposito della moratoria dei mutui e dei prestiti garantiti, che sono due delle principali misure di sostegno e di rilancio che vedono protagonista il sistema bancario? A che punto siamo? Sì, per quanto riguarda le moratorie il dato è sicuramente molto positivo perché ho proprio i dati ad oggi e abbiamo 2 milioni e 700 mila pratiche per un importo di 286 miliardi. Ecco, qui le banche, non essendoci la burocrazia statale, ma essendo un provvedimento diretto tra banca e cliente, hanno dimostrato di essere come sono in realtà molto efficienti, cioè 300 miliardi circa di moratorie concesse nel giro di due mesi. 300 miliardi in genere di moratorie si concedono in 15 anni, in questo caso sono state fatte in due mesi vista la richiesta dei clienti. Quindi la banca quando non ha gli ostacoli della burocrazia, quando non ha normative difficili da comprendere e da applicare, la banca è un soggetto molto efficiente che lavora anche in tutto questo periodo di pandemia, gli sportelli bancari sono rimasti aperti, il servizio bancario nazionale ha funzionato benissimo, nessuno si è accorto che ci fosse una pandemia, ma anche i dipendenti delle banche sono persone, non sono robot, quindi hanno fatto funzionare tutto e vanno ringraziati per questo. Meno entusiasmante il dato che riguarda i prestiti, perché qui ci sono problemi di burocrazia, di applicazione delle norme, di istruttorie che bisogna fare per forza, comunque siamo una richiesta sempre ad oggi al fondo di garanzia di 48 miliardi, cioè non deliberati, ma le domande assommano un importo di 48 miliardi, credo che le delibere siano circa il 90% di questa somma, siamo ancora lontani dai 400 miliardi di garanzie che aveva diciamo spiccato il governo, anche se il governo ha fatto una confusione enorme tra garanzie e liquidità facendo capire che la liquidità, comunque le procedure stanno andando avanti, più lentamente forse di quanto uno poteva aspettarsi, ma anche perché molte imprese che ne avrebbero diritto non fanno domanda, cioè fanno domanda alle imprese quelle più in difficoltà, perché hanno bisogno urgentemente di procedere, di andare avanti, di non chiudere, quelle che sono indebitate già, ma che riescono comunque da sole andare avanti, stentano a fare domande perché qui si tratta di aggiungere debiti ad altri debiti e non tutte le aziende vogliono farlo. I dati ad oggi sono questi. All'Avvocato Rizzo, sapendo che è un tema che a lui particolarmente è caro, che lo è anche all'Accademia, il buonsenso nell'azione di governo. Allora, caro Alberto, come stiamo messi a buonsenso con questo esecutivo? Domanda provocatore alla tua, caro direttore. Mi trovi alquanto contrariato da una serie di provvedimenti che ultimamente cozzano non soltanto con alcuni principi economici fondamentali, non soltanto con una serie di norme costituzionali, ma proprio anche contro il buonsenso. Guarda, a beneficio dei nostri ascoltatori farò pochi esempi per chiarire il tema. Dice l'Inps, parlando di lavoro, che sono state erogate ai residenti nel nostro Paese 16 milioni di prestazioni assistenziali. 16 milioni di prestazioni assistenziali costituiscono un numero enorme, seppur spalmato sulla nostra popolazione, ma quando cesserà l'erogazione di questi sussidi e quindi questa, se mi consenti, droga di Stato terminerà, che cosa potrà capitare al nostro mercato del lavoro? E poi, per legge sappiamo che sono stati bloccati i cosiddetti licenziamenti da parte delle aziende e, cosa ancora più stupefacente, gli sfratti. Lo dico a beneficio dei tanti proprietari di immobile che nel nostro Paese oggi si trovano di fatto espropriati del loro bene fondamentale, la proprietà della casa. Perché? Perché magari l'hanno affittata a soggetti che anche incolpevolmente non hanno più potuto pagare l'affitto e si trovano nella condizione di non poter far nulla, perché la legge dello Stato ha impedito loro di procedere. Ecco, caro Marco, queste considerazioni giuridiche si devono sommare a una considerazione di carattere economico, perché il sistema economico funziona sostanzialmente come il corpo umano. Quando viene compresso e forse anche compromesso in alcune funzioni fondamentali scoppia. Se le aziende per legge non possono licenziare, ma se quelle stesse aziende non mantengono i loro livelli di fatturato perché le vendite, come ci danno a tutti i dati ufficiali, sono in crollo verticale. Come faranno a pagare gli stipendi una volta che questo periodo artefatto di sospensione verrà meno? E ancora, il blocco degli sfratti in realtà è una misura altamente controproducente, perché se io ho la proprietà di un immobile e so che se metto dentro qualcuno non potrò sfrattarlo nel momento in cui lui non inizia a pagare più l'affitto, io il bene lo tengo vuoto o comunque se voglio affittarlo aumento enormemente il canone e richiedo garanzie aggiuntive. E queste sono semplici ed elementari considerazioni che devono far riflettere profondamente sulla completa carenza di sensibilità sia economica che giuridica che istituzionale del nostro governo. Mi sembra davvero di trovarmi o meglio di vedermi a bordo di un aereo in una condizione di stallo dove tutti abbiano detto non disturbate il pilota, non disturbate il pilota, però adesso l'aereo è entrato in una pericolosa situazione dove se non viene cambiata la rotta e forse anche il pilota, gli esiti non potranno essere positivi né tantomeno favorevoli, anche perché a forza di rinvii sulle misure urgenti da applicare in termini concreti all'economia questo governo, lo dicono i numeri, poco o nulla ha fatto. Come sempre anche in questo appuntamento elementi per il giudizio offerti con competenza e chiarezza. A ciascuno di voi, cari ascoltatori, il compito di formarsi un'opinione. E l'appuntamento alla prossima settimana.